Un incendio divampato a giovedì 27 agosto intorno alle 13 alla nuova agraria di strada Montalenga San Giorgio Canavese. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Brea, il carro a fiamma, l'NBCR, i carabinieri, il sindaco Andrea Zanusso e l'assessore Marco Baudino di San Giorgio Canavese. Le fiamme hanno interessato parte del capannone dove erano posizionati articoli come ad esempio Mangimi, ingenti i danni riportati, non ancora note le cause del ruogo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.